Alfred Korn non è un poeta confessionale. Le sue poesie suggeriscono che i momenti più dolorosi della sua vita giunsero quando le sue relazioni coniugali o di coppia ebbero fine, ma le tracce di quelle ferite profonde sono poche e indirette, senza mai smarrirsi in teatrini confessionali. Nella poesia, il mantello dell'invisibilità, il poeta si lamenta di aver dedicato la propria vita allo studio, così generico da lisciviare il suo colore lasciandolo soltanto con l'albinismo diurno della pagina, il momento in cui si avvicina maggiormente all'autorivelazione, una missione, è nella grande poesia, e poi vidi. Vede il proprio cadavere e il modo in cui gli amici lo smembrano, abbandonando solo il cuore. Questa è una poesia che avrebbe potuto scrivere Herbert. Le sue poesie sovente parlano di eventi storici, per esempio, i turbamenti causati dal 11 settembre in America.